Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net. Continua il bel tempo, le temperature risulteranno in ulteriore lieve aumento nei valori diurni. Venerdì 19. Condizioni di cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. 20 tesi da sud sulle Ioniche e deboli di Levante sul Tirreno. Mari poco mossi, calmo solo l'Alto Ionio. Tempo stabile anche per sabato 20 febbraio, salvo locali foschie sul Medio Alto Ionio. Mari calmi. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!